Continuano ad aumentare i casi nei comuni del Vesuviano. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino nella giornata di ieri, certificati 5 nuovi casi di positività al Covid-19 e 4 nuove guarigioni. Al momento dunque il quadro è il seguente. Totale ospedalizzati 11, totale in isolamento domiciliare 116, totale guariti dal Covid-19, 6.798, totale decessi 176. A Torre Annunziata si registrano invece sei nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 92 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 6,52%. Al contempo si registra una guarigione. Sono 102 cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 52.045. Sono 4.721 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.525 guarite e 94 decedute. Secondo infine il bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania, nella giornata di ieri registrati 393 positivi a fronte di 29.429 test effettuati, 3 i decessi. Secondo invece il report dei posti letto su base regionale, al momento ci sono 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, 17 occupati, 3.160 i posti letto di degenza disponibili, 193 quelli occupati.